Ciao ragazzi, ho trovato un po' di tempo per cercare un video Qui fa un po' fresco, anzi fa un po' freddo Questo è il giardino di fuori, il giardino ha uno spazio di fuori Più non la vi farò vedere la casa E' una casa tutta a parte, quelle e queste sono tutte diverse In strada sono molto più ordinati e più puliti, ma in casa un po' meno C'è un disordine nelle case Ma dobbiamo andare a scuola Qui ci sono lucenti che passano Questi giorni pubblicherò altri video In cui discuterò di vari problemi con la società italiana Che mi hanno dato molto urtato Mi hanno dato molto fastidio Perché poi le persone non si accorgono di quello che fanno Ma questo lo vedremo negli altri video Qui la lingua non si capisce Non è proprio l'inglese Ma come me ne ho già detto E' tutto diverso Sta qua Michele Va bene Concludo quel video Ciao